Amici software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 120esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source delle ultime settimane appena trascorse. Come avete avuto modo di vedere anche questa settimana le cose sono andate a rirendo, sono stati pubblicati pochi articoli perché è successa una brutta disavventura in famiglia. La scorsa settimana, la scorsa domenica ho dovuto far ricoverare mio padre per problemi di salute e è stata una settimana in ospedale. Fortunatamente adesso l'hanno dimesso e a casa anche se dovrà avere un percorso curativo che speriamo vada tutto per il bene e quindi che non ci siano intoppi. Comunque dovrà stare sotto controllo per diverso tempo. Poi come vi avevo accennato anche nella scorsa puntata il computer mi si era azzoppato e quindi ho dovuto anche aspettare che mi arrivassero le componenti nuove. Fa apparente che ho appena scoperto che c'erano anche... va tutto a posto ma c'è un bug che praticamente delle porte frontali USB ce n'è una che non vuole saperne di dialogare. Quindi è alimentata perché riesco a collegare la Mi Band ma non riconosce altre periferiche. Sarà forse che il controller non riesce a gestire tutte quelle porte USB che ho collegato perché le ho collegate altre dietro. Vabbè, questo è il minimo dei problemi. I problemi più grandi erano quelli di salute di mio padre e come vi dicevo fortunatamente adesso è stato dimesso e dovrà seguire un percorso di cura. Però speriamo che vada tutto per il bene e che non ci siano intoppi. Iniziamo la puntata. Apriamo questa puntata con i due articoli pubblicati da Luca in queste ultime settimane. Luca che ringrazio di cuore per l'impegno che ci sta mettendo per gli articoli che sta scrivendo e che stanno portando visita al blog. Ma soprattutto stanno suscitando discussione all'interno dei commenti, in calcio degli articoli. E fa sempre piacere vedere la sezione commenti popolata. Quindi quando c'è scambio di opinioni e di punti di vista e quant'altro. Il primo articolo pubblicato da Luca riguarda l'utilizzo di Telegram. E ha un titolo. E' sicuro di utilizzare Telegram? Sì o meglio puntini puntini. Perché fa questo articolo Luca? Perché sapete bene il fondatore di Telegram è il russo Pavel Durov. Che è fondatore anche del famoso social VK. Perché viene suscita la domanda? Perché questa domanda è molto di attualità in questo periodo? Perché come ben saprete ci sono una serie di boicottaggi di software di origine russa. Famoso è il caso recente dell'antivirus Kaspersky. Che è stato adesso cacciato. È stato rimosso per ordine del governo dalle infrastrutture pubbliche. Da tutte le infrastrutture pubbliche. Dove veniva utilizzato? E uno si fa una domanda. E a questo punto conviene utilizzare Telegram è sicuro? Andate a leggere l'articolo. Non vi spoilerò niente. Comunque sì. Alla fine è un software sicuro. Sia dal punto di vista di collegamenti con il governo russo. Sia dal punto di vista anche della criptografia. Anche se non è la criptografia che ci piacerebbe avere su un software di questo tipo. L'altro articolo pubblicato da Luca è un nuovo hands-on dedicato questa volta a Zorin. Zorin è una distribuzione derivata da Ubuntu che si basa sul ramo LTS di Ubuntu. che va a applicare una serie di correttivi all'interfaccia desktop con una serie di estensioni per renderla più gradevole e meno problematica per chi si avvicina per la prima volta a una distribuzione Linux. integra anche alcune soluzioni mutuate da altri desktop environment. Ad esempio va a prendere la possibilità di dialogare con uno smartphone Android con una sua applicazione che è derivata da KDA Connect. e va a fare anche qualche altra cosina qualità, va a infarcire di software e va a migliorare il parco software per il sagrato con software più recente rispetto a Ubuntu. Ad esempio guarda caso con il suo PPA dedicato che contiene l'ultima versione ad esempio di LibreOffice ma anche di altre applicazioni. Ve ne ho parlato già diverse volte di questa distribuzione e adesso ne parla anche Luca e ci dà il suo punto di vista. Andatelo a leggere e fatemi sapere che cosa ne pensate. Per raggiungere tutti quanti gli utenti Linux Mint ma anche per tutti quanti quegli utenti che amano Cinnamon, Clement Lefebbra ha annunciato il rilascio della versione stabile di Linux Mint Debian Edition 5, nome in codice Elsie. Per chi non conoscesse questa distribuzione si tratta di una edizione particolare di Linux Mint basata sul ramo stabile di Debian, da qui il nome Debian Edition. L'obiettivo di Linux Mint Debian Edition è quello di garantire che Linux Mint possa continuare a fornire la stessa esperienza utente nel caso in cui Ubuntu dovesse un domani scomparire. Questa nuova versione di Linux Mint è basata su Debian 11 Bussai e utilizza l'ultima versione stabile di Cinnamon, il desktop environment di casa Mint. Se avete installato la precedente beta di Linux Mint Debian Edition 5 non sarà necessario ristrarre la distro ma passerà a dare una serie di comandi dalla terminale che trovate su Marcosbox e aggiornare tutto. E' una distribuzione carina, io in passato l'ho utilizzata da un senso di stantio però di solidità al tempo stesso. Stantio perché sapete c'è sempre questo fatto che uno ci prova una Debian stabile, è una cosa un po' vecchiotta. Poi Cinnamon ci mette del suo con quel suo tema orribile verde. Lo sto vedendo adesso con lo schermo nuovo che ho preso qualche giorno fa. E quel verde adesso con questi colori che sono più saturi di questo display fa ancora più schifo. Ah, apro e chiude parentesi, ho preso un LG Ultra Gear che ho dovuto prendere perché c'avevo un buono da Ironics che dovevo ritirare altrimenti mi scadeva. E ha una sonnalità di saturazione di 24 pollici di GN600 B, come cavolo si chiama. Se avete suggerimenti su come impostare correttamente il colore ve ne sarei veramente grato. Colore di saturazione perché lo sto vedendo in questo momento con il testo scritto. Ed è schifoso. Restando sempre in tema di distribuzioni Linux, il team di Asai Linux ha finalmente annunciato il rilascio della prima versione alfa, quindi in il accesso sviluppo iniziale di Asai Linux, la distribuzione Linux per i nuovi computer Apple equipaggiati con Apple Silicon, il nuovo stock Apple M1. Questa prima release è destinata a sviluppatori e utenti esperti ed è dunque caldamente sconsigliata al grande pubblico. Qualora decideste di provare il team di sviluppo di Asai Linux, vi inviterà caldamente a segnalare eventuali bug e aiutarne nello sviluppo. Ci sono alcuni requisiti per poter installare Asai Linux. Abbiamo bisogno ovviamente di una macchina con processore Apple M1, con SOC Apple M1, M1 Pro o M1 Max, escluso del nuovo Mac Studio. Abbiamo bisogno poi di macOS 12.3 o versioni successive, effettuato l'accesso come utente amministratore, 53 GB di spazio disponibile per installazione e 15 GB per Asai Linux desktop. Praticamente il programma di installazione si riserva a 3 GB per la partizione di macOS. Quindi in totale dovete avere almeno 53 GB di spazio disponibile libero. Ovviamente una connessione internet funzionante e basta. Il resto fa tutto in automatico l'installer perché praticamente hanno realizzato un installer semplice, basta dare un comando da terminale e provvede a fare il tutto. Asai Linux è un remix personalizzato di Arch Linux Arm e viene fornito con desktop plasma e tutti quindi i pacchetti di base per poter avviarsi e iniziare a testare la distribuzione e poter utilizzare. Quali sono le cose che funzionano? Trovate la lista su Marcosbox. Le cose principali come il Wi-Fi, il porto USB, la tastiera, l'ethernet, il lettore di scheda SD card, le giacche per le cuffie, quello quasi funziona, potrebbe essere tra parlando, però diciamo le cose principali ci sono. Quello che non ancora funziona ma solo in arrivo sono il supporto al USB 3, gli altoparlanti e il controller del display, quindi per il controllo della luminosità, della retroilluminazione, V-Sync e quant'altro. Cosa non funziona? Ci sono tante cose che ancora non funzionano come la display port, la thunderbolt, la bluetooth, l'accelerazione GPU, il neural engine e qualche altra funzionalità che andate a leggere su Marcosbox, inutile che vi sto a leggere cosa c'è e cosa non c'è, anche perché poi queste cose variano molto, quindi come gli sviluppatori di Asa Linux ci mettono le mani, questa lista potrebbe essere invalidata e potrebbe cambiare il tutto. E una cosa interessante, mi piacerebbe provarla in futuro avendo la disponibilità di un Mac, anche se il nerd che c'è in me dice di mettere mano a una cosa del genere, ma la parte saggia che c'è in me dice se ti compri un Mac utilizza il sistema operativo della Apple, quindi il Mac OS, quindi non metterci il rinusso, non metterti a pasticciare avendo poi problemi per quanto riguarda la compatibilità completa. Lo so, è una cosa brutta detta da me che sono uno di quei nerd della prima ora, però sto diventando un po' vecchiotto, sto diventando che se una cosa funziona non la toccare. Stiamo restando che comunque questo è un esercizio di stile che porterà anche un bagaglio di conoscenze agli sviluppatori del kernel Linux, ma agli sviluppatori di tanti progetti, perché tutto quello che si andrà a studiare facendo il reverse engineering potrà servire in futuro per altre cose, quindi ben venga comunque questo sforzo che stanno facendo, se può comportare tante belle cose per altri progetti. Prima abbiamo parlato di ASI Linux che fa utilizzo di Plasma come DeX per variamente, e restiamo sempre in tema KDE, con una notizia riguardante Ocular, il popolare lettore PDF multipiattaforma, nonché visualizzatore di documenti universali di KDE, che è diventato il primo programma per computer con certificazione ecologica. Può sembrare strano, ma nel febbraio del 2022 Ocular ha ricevuto il Blue Angel Ecolabel, l'etichetta ambientale ufficiale assegnata dal governo tedesco. È una certificazione introdotta nel 1978 del marchio ambientale più antico al mondo, Ocular è il primo prodotto software ad essere certificato con il suo sigillo. Oltre a questo, occorre anche il primo programma per computer ecocertificato in assoluto tra le 30 organizzazioni del Global Ecolabbing Network, network di cui Blue Angel è membro e rappresenta oltre 50 paesi. Il Blue Angel viene assegnato a una serie di prodotti e servizi, dai prodotti e i materiali da costruzione alle stampanti, che certifica che questo prodotto dimostra di soddisfare una serie di requisiti rigorosi, considerati critici per l'ambiente durante il ciclo di vita del prodotto. Questi includono anche la trasparenza nel consumo di energia quando si utilizza il software, per esempio nel caso di Ocular, mentre si legge osservando un pdf o la capacità di eseguire applicazioni su hardware vecchio di almeno 5 anni, è un'altra serie di parametri. Sì, 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 io immagino nella vostra testa, mentre state sentendo questa cosa, dice ma perché veramente possono fare una cosa del genere per un software? Eh sì, sì, è una nuova frontiera. Contento che sia un software libero ad aver per primo avuto questo tipo di certificato, vedremo nel corso dei prossimi mesi, nei prossimi anni, se si aggiungerà qualche altro software libero o se ci saranno anche aggiunte di software commerciali ansiosi di poter prendere questa certificazione. Passiamo adesso all'ultima notizia di questa puntata, una notizia che potrà di sicuro interessare a una decina di voi all'ascolto, perché non di più, non credo che ci saranno persone entusiaste di questa notizia, che aspettavano questa notizia come se fosse il latte e caffè la mattina. Ci stiamo avvicinando al rilascio di Ubuntu 22.04 LTS ed è quel momento del ciclo di sviluppo in cui tutti stanno guardando per la prima volta l'artwork ufficiale delle mascotte, questa versione tuttavia canonica ha deciso di fare un'altra sorpresa per tutti quanti gli utenti di Ubuntu e è stato pubblicato il nuovo logo di Ubuntu. Su Marcosbox trovate gli screenshot del nuovo logo di Ubuntu, ma trovate anche l'evoluzione del logo di Ubuntu ed è di fatto un'evoluzione del logo storico, il circolo degli amici, come veniva chiamato. Non so se vi ricordavate nelle prime versioni di Ubuntu che c'erano questi tre uomini che si tenevano per mano in cerchio, poi avevano anche colori diversi in modo da fare distingue. Poi si è passato a quello cerchio arancio con i tre uomini tutti bianchi e adesso ci sono sempre questi tre uomini bianchi anche se non sembrano più tre uomini, ma a guardarli così sembrano uno di quei rughi giapponesi visto che si vedevano i standardi nell'epoca dei samurai e quant'altro. E anche secondo me il fatto che li hanno messo anziché utilizzare il solito cerchio arancio o il solito cerchio insomma con gli uomini posizionanti questa volta hanno deciso di fare un rettangolo arancione con questi pseudo uomini sembrano proprio gli standardi quelli dell'epoca dei samurai giapponesi. Vi piace? Fatemi sapere voi che cosa ne pensate se c'era la necessità di fare questa cosa qui. Mi è piaciuto anche un commento che c'è stato sul blog dove c'è un ricad dei prossimi loghi di Ubuntu quello del 2023 e 2024. E con questa ultima notizia si conclude qui questa centoventesima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo di seguirmi sui canali social sul canale Telegram dedicato alle notizie sul canale, a meglio sulla community Telegram dedicata a tutti quanti voi lettori di Marcosbox dove potete parlare di più nemmeno scambiarvi consigli e quant'altro. Vi ricordo che se volete supportare il blog potete acquistare da Amazon utilizzando il mio codice referral sapete come funziona e attivo anche un canale Telegram dedicato alle offerte di Marcosbox non pubblico tantissimi articoli perché ci sono centinaia di canali Telegram che pubblicano offerte di continuo offerte o pseudo offerte io mi limito soltanto a quelle che mi sembrano offerte vere offerte interessanti e poi alla fine mi limito soltanto a offerte dal mondo della tecnologia perché più ho giusto qualche foto ho postato qualche orologio o qualche attrazzanzatina però comunque la maggior parte è tutto a tema tecnologico se non c'è qualche prodotto che non pubblico se volete comunque supportare il blog vi ricordo che potete utilizzare il mio codice referral che trovate su Marcosbox che sarebbe Marcosbox-21 se siete pratici di Amazon sapete come utilizzare questo tipo di codici e detto questo un caldo abbraccio un saluto a tutti quanti lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox sì sì spero di sì la prossima settimana vi faccio una promessa pubblicherò la prossima settimana grazie